... Venerdì 20 novembre, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Siete sul canale 17, in diretta alle 7 del mattino c'è la lettura dei giornali, o meglio, il commento alla stampa del giorno con la selezione delle notizie più importanti dal resto del canino del Corriere Adriatico. Ma come sempre andiamo velocemente a vedere il santo e poi il tempo. Il santo di oggi è Sant Edmondo. Il sole sorgerà alle 7.13 e tramonterà alle 16.40. Adesso il tempo. Eloquente la copertina di Trebimeteo.it ciclone. Tra venerdì e sabato maltempo, nubi fragi, burrasche di vento e neve, assaggio d'inverno, gelate in pianura. E quindi ecco la situazione con la grafica di quello che sta per accadere nella nostra Italia centrale. con questo ciclone, questo vortice ciclonico che sta ormai facendo sentire e vedere i suoi effetti in queste prime ore del mattino. Nel dettaglio, la protezione civile delle Marche per oggi prevede precipitazioni diffuse nei settori collinari e montani, in particolare nel comparto meridionale della regione, con accumulate moderate a fine periodo. Nei settori basso, collinari e costieri, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. C'è anche la neve, il limite delle nevicate è attorno ai 1200, ma in discesa, in serata, per effetto della diminuzione delle temperature, intorno ai 1000 metri. Quindi ci sarà la possibilità di vedere la neve sui monti del nostro appennino. Domani, sabato 21 novembre, cielo sereno, poco nuvoloso, domenica invece soleggiato su gran parte della regione, perlomeno soleggiato su tutta la costa, un po' meno in montagna. Stabile il tempo anche per la gran parte della prossima settimana. Allora, ci sono diverse notizie, chiaramente la parte dedicata alla Covid è la più importante, ci sono delle novità, è entrato in vigore, entrerà in vigore l'ordinanza del governatore Acquaroli e quindi andremo ancora a rivedere, perché non è mai troppo, non è mai abbastanza, a rivedere quelle che sono le regole a cui i marchigiani dovranno sottostare per non incappare nelle multe e poi cosa abbiamo? Abbiamo anche la questione dei vaccini, perché sta per iniziare la più grande operazione di vaccinazione di massa mai compiuta sulla faccia della Terra e l'Italia sarà all'interno di questo processo. Ci sono già i primi dettagli, le prime indicazioni, le prime persone che verranno vaccinate a partire dalla fine di gennaio. Con ordine, andiamo subito sulla prima del Carlino, edizione di Pesero. Intanto, così per alleggerire un po', la notizia per il fortunato vincitore di una maxi vincita alla Grattevinci, un milione di euro a Marotta, un uomo sulla quarantina, un cliente non proprio abituale, ma che ogni tanto si faceva vedere in quell'esercizio e che ha vinto grattando appunto un milione di euro. Questa è la notizia che vedremo tra pochissimo. Poi il coronavirus è un buon affare, è un virgolettato. Un fratello di un camorrista, socio occulto di un'azienda specializzata nella sanificazione, sequestrata dalla Guardia di Finanza. Poi la sede della provincia di Pesero-Rubino a Pesero, che è inagibile, meglio che l'edificio sia abbattuto, e poi dal comune di Pesero, sempre, saturimetri in regalo, ecco come averli. Assembramenti, l'ordinanza soft di Acquaroli, ecco le regole. Poi in provincia 168 contagi, solo un accumulo di tamponi. Quindi anche se rispetto, lo vedremo tra poco, rispetto a ieri, da 86 si è passato a 168, ma c'è un perché, è un fatto tecnico. 40 positivi e una vittima nella casa di riposo. Siamo a Cantiano, di taglio basso. Invece il triangolo a luci rosse finisce male. Due donne avrebbero ricattato un settantenne, utilizzando una foto scattata nell'intimità. Poi lo sport, WL, ci siamo, Vis di Paola ha firmato. Basket, attesa per il verdetto dei tamponi. Se non spuntano altri casi, dunque si gioca. Adesso invece il Corriere Adriatico. L'apertura, il comune a zero alla Tosap. Il comune di Pesero, accordo raggiunto. Ristoratori, baristi e ambulanti penalizzati dall'emergenza Covid, saranno rimborsati. Acquaroli firma intanto l'ordinanza in vigore da domani. Ieri, nelle Marche, sei decessi, più altri cinque dei giorni scorsi. A centro pagina, la fotonotizia tamponi. L'impasse, vedete, fa schizzare i numeri. I problemi per processarli. Ora questi problemi sono superati. Dunque si è un po' accumulato e dunque di conseguenza hanno fatto numero. Pesero deserta la gara per il vaccino antinfluenzale. L'SOS dei medici. Anche questa è una notizia che vedremo tra poco nel dettaglio. Sono finite, per quanto riguarda l'antinfluenzale, le scorte di vaccino. AMGA, tribunale, prende tempo per la bonifica. Provincia, inagibile il conservatorio. Dovrà andarsene. E poi la camorra, dietro le sanificazioni, sigilli ad una azienda. A Pesero. Che sorprese, invece. A Marotta hanno vinto un milione. La vincita nel Bartabacchi di Marco Vitali caccia il superfortunato del Million Day. E poi a scuola sparisce un PC denunciato, uno studente. Ma allora, andiamo a vedere subito questa prima notizia che ci dà un po' così, un po' di speranza. Sogniamo, anche se io sono assolutamente contrario ai Grattevince. Non voglio sponsorizzare, perlomeno qui in televisione, l'illusione di risolvere tutti i problemi della vita giocando al Grattevince. Scordatevelo. Questa è una botta, come si dice. Con 4 euro, comunque, vince un milione. Festa Marotta. Colpaccio a 6-0 al bar Tabaccheria Marco Vitali. È un nostro cliente saltuario. Tra i 40 e i 50 anni, dice il titolare della ricevitoria. E, chiaramente, Vitali, che è il proprietario di questa ricevitoria, preferisce non fornire troppo informazioni, ma svela che si è fatto vivo ieri mattina il vincitore. È venuto qui, racconta di buon'ora, poco dopo l'apertura, con la schedina in mano, chiedendomi di fare una verifica. Dopodiché ha sgranato gli occhi e mi ha chiesto, così avrei proprio vinto un milione, e io ho risposto, pare proprio di sì. Spiegandogli che per la riscossione si doveva poi rivolgere a banca intesa convenzionata con l'ottomatica. E adesso torniamo con i piedi per terra. Restizioni ancora per due settimane. Altre quattro regioni a rischio zona rossa. Fino al 3 dicembre niente sconti. Il ministro Speranza, basta sottovalutare la situazione. Gli ospedali sono ancora sotto pressione. Con ogni probabilità la nostra vicina Emilia Romagna verrà confermata in zona arancione. Noi siamo ancora in zona arancione dal 15 di novembre. La speranza è quella di vedere, diminuire tutto quanto, di sistemare un po' la questione, tornare in zona gialla. Per ora zona gialla vicino a noi, confina con noi, anche se con la punta in basso, è solo il Lazio. Per il resto siamo circondati da regioni arancione. Ora andiamo a vedere nel dettaglio invece la ordinanza del governatore Francesco Acquaroli. Intanto il titolo, mangiare all'aperto è vietato dopo le ore 16. Stop all'educazione fisica a scuola. Acquaroli firma l'ordinanza anti-assembramento. Pochi cambiamenti. Ecco tutte le regole. C'è anche un freno alle feste in casa. Ma come abbiamo già detto più volte, è una raccomandazione e niente di più. Ieri in grafica noi nel telegiornale abbiamo scritto vietato le feste in casa. Ovviamente uno può fare quello che gli pare in casa, però chiaro che è da sconsiderati organizzare delle feste in casa. Sono fortemente raccomandate. Poi chiaramente c'è il vicino che farà da vigilante e quindi vorrei vedere se c'è qualcuno che ha il coraggio di fare delle feste in casa. Ma tutto è possibile. Allora andiamo velocemente. Quindi raccomandazione, niente feste, niente assembramenti, niente parenti, il più possibile insomma. Viene consentito invece, mettendolo nero su bianco, l'asporto anche senza prenotazione da bar, ristoranti e locali pubblici in genere. L'ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, 21 di novembre. In casa abbiamo detto, con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandata di vietare assembramenti e feste, mentre per quanto riguarda la mascherina, va sempre indossata quando si è fuori casa, sempre, in qualunque situazione, con eccezione dei bambini con età inferiore 6 anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. A scuola, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, sono sospese l'educazione fisica, al chiuso, dove non è possibile rispettare la distanza. Poi le lezioni di canto, sospese, le lezioni di strumento, a fiato. Per quanto riguarda invece il commercio, quando si va a fare la spesa, allora attenzione alle massaie, alle nostre casalinghe, i clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per gli acquisti e devono essere sempre muniti di mascherina. Quindi niente passeggiate tra le corsie, tra il carrello, ma semplicemente la spesa si fa andando già con un foglietto stampato, a casa lo scrivete, fate già mente locale, poi quando si arriva lì, cronometro la mano, via si corre e si prende e si mette nel carrello, poi si paga e se ne va, senza fare annusare, guardare, vedere e tutto il resto. Quindi velocemente, è sempre uno per ogni famiglia. È vietata dopo le 16 invece la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su Repubblico, private aperte al pubblico. Il commercio su Repubblica, invece il mercato, ecco il mercato dove anche qui le massai e le donne vanno sempre molto volentieri, il mercato è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui ha il protocollo di sicurezza regionale. Ci sono dei Comuni che possono farli, altri invece per questioni di spazi, eccetera, no. Per l'asporto abbiamo detto, la vendita è consentita anche senza prenotazione, quindi uno può andare lì, si mette in coda fuori, poi entra, prende, va. Gli impianti termici, questa è un'altra notizia importante, non ne abbiamo mai parlato. L'attività di ispezione degli impianti termici è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatto salve eventuali situazioni di particolare pericolosità. Il piano Arcuri invece, sempre dal resto del carino, edizione nazionale, il piano Arcuri, questo è un altro argomento, un altro articolo molto importante, dobbiamo soffermarci un attimo su questo, perché sta per iniziare la più grande vaccinazione di massa della storia dell'umanità. Non sarà obbligatoria, per questo, chiaro, però ci sarà un patentino, nel senso che io, se sono vaccinato, posso avere questo patentino, dico, io sono stato vaccinato, e quindi rispetto a chi non ce l'avrà, probabilmente avrà qualche funzione, qualche cosa in più. Allora, si inizierà a metà gennaio, e poi si proseguirà questa vaccinazione di massa per almeno nove mesi, si inizierà dal gennaio, metà gennaio 2021, la più grande campagna di somministrazione di vaccini mai vista, stiamo lavorando di cercuri allacremente ad un piano di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini anti-Covid, che sia capace di vaccinare fino all'ultimo italiano, che vorrà farlo, che vorrà farlo, non è obbligatorio, questo lo diciamo, che vorrà farlo, e ci sarà ovviamente una piattaforma informativa che servirà per gestire un po' queste vaccinazioni. Ora, come si procederà, questo è importante, da fine gennaio 2021 arriveranno queste 3 milioni e 400 mila dosi da somministrare, però siccome abbiamo detto che sono due dosi per ogni persona, quindi da 3 milioni e 4 si arriva a 1 milione e 7, quindi si potranno vaccinare 1 milione e 700 mila italiani, chi sono tra i 60 milioni di italiani quelli che lo avranno e lo potranno fare per primi, chiaramente sono i sanitari, sono coloro che lavorano nelle aree in cui il contagio e la diffusione del virus hanno avuto un canale privilegiato, tra virgolette, quindi abbiamo a partire dagli ospedali, i presidi residenziali per anziani, questi sono i primi e poi chiaramente tutte le altre categorie, ma per le altre bisognerà aspettare poi i mesi successivi. Quale vaccino poi? Perché si sta pensando, si sta parlando di alcuni vaccini, non c'è solo un'azienda farmaceutica, ce ne sono diverse, ma la Pfizer è quella che sta avendo le autorizzazioni, quindi quella che dovrebbe arrivare, diciamo, per prima a tagliare il traguardo, quindi per primi probabilmente sarà questo vaccino. O poi c'è il problema degli aghi, delle siringhe, perché è chiaro che arriveranno queste milioni di dosi di vaccino, ma ci sono milioni di aghi e siringhe, anche su questo dobbiamo stare attenti e Arcuri sta già mettendo in campo un'altra operazione maxi di acquisto di aghi e siringhe per evitare la marabefa di avere le dosi, sì, ma di non poterle poi iniettare. Intanto la buona notizia, la bella notizia è che il Cardinal Bassetti è negativo al tampone, ora la sua convalescenza proseguirà il Gemelli di Roma, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dimesso dall'ospedale di Perugia e trasferito a Roma. In due occasioni il Papa ha chiamato Salvi, che è il Vescovo ausiliare, per avere notizie sul suo stato di salute. Torniamo sulle Marche, Corriere Adriatico, l'ondata si abbassa, ma il virus rallenta senza frenare troppo. Tasso di positività dei test e infezioni attuali, una discesa ancora lunga e incerta, impennata dopo le riaperture delle scuole, l'effetto zona arancione non si sente. Ieri c'è stato un rialzo dei casi dopo cinque giorni di calo percentuale, i contagiati attuali verso quota 15 mila, l'impennata però dei guariti, perché ci sono più di 27 persone che sono uscite ieri dall'ospedale. Quindi insomma sono numeri anche questi che non bisogna dimenticare, importanti. I tamponi invece hanno tardato e l'impasse negli esami fa impennare i numeri. Qui siamo a Pesaro. In 24 ore 168 casi ieri in provincia segnalati dal Gores contro gli 82 del giorno prima. Chiaramente fanno il loro effetto, però ci sono stati problemi, questi sono per effetto di alcuni problemi nel processare i test con uno stop di cinque giorni, ma ora la situazione si è normalizzata quindi dovremmo vedere oggi i dati intorno alle 9 di questa mattina. Ora se avete anche voi così voglia di vedere quali sono i dati, abbiamo un canale Telegram, Occhio alla Notizia, dove noi rigiriamo tutte le informazioni in tempo reale oppure sul nostro sito internet occhianotizia.it I contagi tornano su e da noi sono 168, titolo è il Carlino di Pesaro, ieri sono stati 667 i nuovi casi, quindi tanti, ma il boom in provincia è dovuto al ritardo nel processare i tamponi perché facciamo quelli del sud. Pressione ospedaliera ancora alta, 11 le vittime in tutta la regione. In un giorno calano i recovery con il record di dimessi, vedete, io ho detto prima 27 se non sbaglio, comunque 29 persone che ieri sono tornate a casa. Proto soccorso 71 i pazienti. Nel report del servizio sanitario l'effetto scomputo si fa sentire. Mentre sull'altra pagina, quella del Carlino, pagina 2 di Pesaro, malati Covid a Cagli, sindaco insorge, neanche una telefonata per dircelo, secondo un accordo tra la regione e il COS, dovranno trovare posto almeno 30 pazienti contagiati. Sarà inevitabile trasferire gli anziani attualmente ospitati, ma l'arrivo è subordinato alle necessità. Ora qui è chiaro che bisogna trovare posti perché poi è tutta una questione di numeri. Se non vogliamo finire in zona rossa dobbiamo far vedere che abbiamo disponibilità di posti e quindi non andiamo troppo in affanno. Intanto a Cantiano 40 positivi nella casa di riposo, forte preoccupazione per il focolaio che si è sprigionato in pochi giorni, nonostante le precauzioni, ieri è morta anche una donna ospite. Nuovi studi sul coronavirus, invece scoperta urbinate sui farmaci, quelli usati per tumori o ipertensione, tornano utili. E le ricerche fatte con Singapore. Mentre allarme vaccini, deserta la gara per 150.000 dosi, esauriti i 417.740 che la Regione aveva ordinato l'anno scorso, il fabbisogno a questo punto supera quota 860.000. Considerate che qua siamo nelle Marche, siamo poco più di un milione. SOS di medici, di base farmacisti. L'assessore Saltamartini dice il problema è che non si trovano, questi vaccini non si trovano più sul mercato. Vedete il riquadro del Corriere Adriatico, la corsa, la copertura vaccinale, 860.000 è la necessità stimata nelle Marche, sono 417.000 più o meno le dosi già esaurite, ordinate dalla Regione e quindi mancherebbero 150.000 dosi aggiuntive nel bando di gara Asur che però è andata deserta perché non si trovano, non ci sono. Tra le limitazioni, il Corriere scrive ginnastica, canto e musica, stoppa le attività nelle scuole, dalle 16 fuori non si mangia, la nuova ordinanza antessembremento entra in vigore domani, Acquaroli contro il Covid dice servono prevenzione e misure che evitino i contagi. Intanto il nuovo ospedale di Pesero, quello che dovrebbe sorgere a Muraglia, se ne parla sul Corriere Adriatico di questa mattina, arrivano i sindacati a bacchettare la politica, CGL, 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 beh c'è due volte CGL, qui c'è un refuso, evidentemente sarà la CISLE, credo, e Will sollecitano il progetto di Marche Nord, confronto da campagna elettorale ma confermano le perplessità sul project financing e la contrarietà alla clinica privata. Intanto da Monbaroccio, sulla Bricciotti, il cantiere sarà concluso tra un mese, dice Andrea Biancani, vicepresidente DEM del Consiglio regionale, quindi buone notizie almeno anche su questo fronte. Di Remigio invece riconfermato alla guida dei ristoratori peseresi, lui dice la politica incapace di leggere la gravità della nostra emergenza, mentre l'azione di Sgarbi e Carriera, che fanno ricorso contro tutti i DPCM del Premier Conte, onorevole e ristoratore, si rivolgono alla Corte Costituzionale. A Fano invece USCA finanziate nella lotta al Covid, lo sapete ormai, lo abbiamo detto mille volte, che cosa sono le USCA, sono quelle unità speciali che entrano in casa e vanno nelle famiglie appunto dove ci sono i positivi. La Fondazione Carifano ha deliberato, insieme con quella peserese, l'acquisto delle attrezzature per tre unità USCA. Il Presidente Gregnola dice nel 2020 abbiamo destinato 400 mila euro alla sanità, vicino agli operatori, anche nel mese di marzo. Pressione sui medici, ancora non c'è l'anti-influenzale, saltata l'annunciata consegna di lunedì è aumentata la richiesta degli anziani, ma vi abbiamo appena detto il perché. Non ci sono. Bar e pasticcerie, sempre dalle pagine di Fano, questa volta del Carlino, bar e pasticcerie, la sporto e la salvezza, torte di compleanno, pasta e domenicali, consegne di colazioni. Ecco come il settore tenta di resistere tra servizi e take-away. All'ex Carducci e provincia, disparità di trattamento, i genitori di ragazzi sul piede di guerra. Mentre sulla pagina 22 del Corriere, sempre di Fano, biodigestore, occasione persa di Aset, il Presidente si accontenta del 30% e questa è la partecipazione attesa da Fano nella società di scopo di Green Factory. E poi vanno all'asta 32 biciclette oggetto di furti a 250 euro, ritrovate e mai rivendicate dai legittimi proprietari. Di taglio basso, atti vandalici alla Rocca, telecamere e vigilanza, la Lega torna sul tema di intemperanze e violenze di gruppi di ediolescenti. Siamo sempre a Fano, dopo Sant'Orso, anche la Rocca Malatestiana. Le polveri tornano ad allarmare, Brunori ora ci organizziamo, Bene Comune e 5 Stelle segnalano il problema, l'assessore convocherà la commissione, mentre sui fanghi del porto, dei quali c'eravamo dimenticati in effetti, ci pensa Rossi, il nuovo consigliere regionale di Apecchio interroga Acquaroli. Vuoi cenare a Fano? Aperto il parcheggio alla Paolini. Questa è una buona notizia per i fanesi, non solo. Dal 1 gennaio, chiusura posticipata dalle 21 alle 24, peccato le norme anti-Covid. Dunque per chi vorrà parcheggiare all'interno dell'ex caserma Paolini lo potrà fare dal 1 gennaio e salvo coprifuoco e quant'altro potrà stare con la macchina fino alle 24, mentre prima era le 21. Città Verdi invece, Pesaro scende di 14 posizioni, ecco la pagella di Ecosistema Urbano 2020, targata Legambiente, troppi rifiuti prodotti e scarso uso del trasporto pubblico. Buone posizioni invece sul fronte delle energie rinnovabili e delle piste ciclabili. Andiamo adesso invece sulla pagina 7 del Carlino, vedete provincia, il perito non ha dubbi, consiglio di abbattere la sede. Il calcestruzzo resiste molto meno della metà del dovuto, il palazzo di Cinque Piani è inagibile, intanto la direzione generale ha chiamato un altro tecnico a rifare le verifiche e intanto tutti i dipendenti sono stati messi fuori. Infiltrazione a Pesaro, sequestrata alla Digivapor, ex sorvegliato speciale, sanificava la città, un 43enne napoletano con una lunga sfilza di reati, gestiva di fatto, ditta di pulizia intestata, apparente a cui dava poi il 50% dei diritti. I guadagni si aggiravano intorno ai 1000 euro al giorno, tanti clienti ovunque, i prestanomi, padre e figlio, oltre ad una romena, sono indagati pure loro per intestazione fittizia. La signora delle ceramiche si è spenta ieri a Milano, grazie a Biscontini Ugolini, autrice di libri e saggi sulla ceramica, non solo pesarese, è morta ieri a Milano, aveva 98 anni, viveva nel capoluogo Lombardo da tantissimi anni, ma Pesaro per lei era sempre Pesaro. E poi Carriere, che abbiamo visto, ricorre contro i DPCM e va alla Corte Costituzionale, mentre per la cronaca ancora un ragazzo di 17 anni accusato di aver stato denunciato dai carabinieri per ricettazione, ha sottratto un computer da scuola, è stato ritrovato a casa sua, scoperto grazie ad un tecnico. Mentre dalla pagina della Valmetauro promuoviamo l'agroecologia per avere più qualità e reddito, la Presidente di Anabio chiede una legge regionale per il distretto biologico. La pagina di Urbino, luci natalizie e babbo natale per le festività, il Comune installa gli addobbi, ma in forma ridotta, l'assessore Foschi, Piazza delle Erbe dedicata ai più piccoli, mentre l'altra pagina del Corriere su Urbino, pochi negozi chiusi, valori a picco, anzi un quadro desolante in attesa di capire quante attività potranno accedere al bonus riservato al Centro Storico Ducale. Cecchini della Confcommercio, dice la maggior parte però, rientrerà solo nei minimali compresi tra 1.000 e 2.000 euro. Mentre da Fermignano, con il Sindaco, lo vedete con la fascia tricolore, c'è nonna Lea, che ha compiuto 100 anni, 100 anni vissuti al lavoro, per 32 anni ha lavorato nell'anificio Carotti, per poi aiutare nel panificio il marito e il figlio fino agli 87 anni. A Senigallia, sembramenti e mascherine, piovono multe, solo nel primo, fine settimana di zona arancione, 22 persone denunciate, ritirata la patente ad un ascolano alla guida in stato di ebrezza. Le forze dell'ordine hanno fermato oltre 500 persone. Munizioni da caccia trovate in un capannone, nei guai uno svuota cantine di Ostravetere, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione. Mentre sul Corriere, sempre la pagina di Senigallia, alunni a scuola troppo presto, c'è il rischio di assembramenti, il Sindaco ha confronto con i presidi, ospedali invece restano 31 posti, 31 posti letto dedicati al Covid. Del Lungomare Da Vinci si studia il ritorno al doppio senso. Municipio in legno invece, qui siamo a Vallefoglia, il cantiere Alvia, stanno per iniziare i lavori di costruzione del nuovo municipio di Vallefoglia che sorgerà a Montecchio nell'area di Mitrofa, a Piazza Piola Torre, nelle vicinanze della Casa della Salute e della Scuola Primaria Federico da Montefeltro in un luogo centrale strategico per la frazione e per la città intera. Il nuovo edificio sarà realizzato su tre piani dove saranno costruiti diversi uffici con piano terra dedicato a quelli maggiormente frequentati dall'utenza, poi chiaramente l'anagrafe, lo Stato civile, eccetera, eccetera, poi a salire fino all'ufficio del sindaco Palmi Rucchielli che dunque avrà presto questa nuova sede tutta in legno per realizzare questa struttura ignifuga e antisismica la spesa si aggira intorno a un milione e mezzo di euro. e a proposito del sindaco di Vallefoglia vi ricordo che Palmi Rucchielli sarà l'ospite di Primo Cittadino lunedì sera dopo il telegiornale. L'informazione di prima mattina finisce qua, la rassegna torna domani come sempre alle 7. Grazie per averci seguito questa sera alle 20.30 vi ricordo il nostro telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci. alle 9.30